Abbiamo chiesto al Comune, al nostro assessore di poterci dare i parcheggi gratis e siamo contentissimi perché si accenderanno anche le luci di Natale, quindi i cittadini potranno passeggiare e vedere queste luci carinissime che stanno già montando e in più troveranno gli sconti delle nostre attività. Stavamo anche chiedendo un'altra cortesia che è quella di prolungare al sabato, perché abbiamo notato in questi anni che il venerdì la cittadinanza si riversa nei centri commerciali, soprattutto per gli acquisti elettronici o oggetti per casalinghi elettrodomestici. Invece il sabato poi hanno sempre fatto gli acquisti nei negozi di vicinanza del centro per l'abbigliamento. Si avvicina il Natale, mancano 40 giorni alle festività natalizie. Quali sono, Marina Dolci, le prospettive per il Natale a Pescara? Allora, io spero, mi auguro, di avere una prospettiva rosea. Siamo sempre sotto periodo post-covid. Si cominciano a sentire un po' di scuole che chiudono, di virus che continuano ad aumentare. Quindi, mi raccomando, vacciniamoci anche per la terza dose e in questo modo allontaniamo la brutta ipotesi di dover richiudere le attività. Quindi vi aspettiamo sempre per i regali. Se potete anticipare, anticipiamo. Vi aspettiamo già nelle nostre attività. Grazie a tutti.